Sono risposte a molti miei minuti, quindi se tu non mi chiede, è perfetto, eh? Eh sì, eh? Voi infatti non è molto grosso. Come le può donare ideale? La donna come voi, una cantina, una non è una cantina, non ha mai capito come se è sanzionata via. Omoro bionda. Secondo me va bene com'è, pur che ci sia. Basta che ci sia, Franco, eh? Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Numero... Numero tre. Abbiamo una donna, numero tre. Ragazzi, chi è la numero tre?